Allora innanzitutto vi ringraziamo per aver accolto la richiesta di partecipare da remoto ma oggi siamo impegnati tutto il team che ha collaborato al progetto in un convegno a Perugia quindi è veramente impossibile per noi essere lì. E' qui accanto a me Matteo Lagrassa il collega Matteo Lagrassa che ha collaborato nella ideazione e poi realizzazione del progetto dunque il progetto si chiama come avete sentito tessuti sociali che sta per social learning allestimenti museali lingue interazione. Si è svolto in l'assegnista ecco va detto è la la dottoressa Vanessa Foscoli l'assegnista che aveva collaborato al progetto, sappiamo tutti che il bando prevedeva l'assegnazione di un assegno di ricerca e se riesco ad andare avanti. Il partner del progetto è la fondazione museale del tessuto di Prato, il riferimento è il direttore del referente, il direttore del museo Filippo Guarini che in maggio tutti conoscerete in Toscana. Allora di cosa ci siamo occupati? Allora noi siamo partiti da tre macro questioni, cioè l'esigenza di allargare il bacino di utenza di un museo estendendola a quelle fasce di persone che per lingua o cultura di provenienza sono le più disagiate nella fruizione di un museo, in particolare adulti migranti. Quindi da una parte c'era questa esigenza del museo del tessuto di estendere il proprio bacino d'utenza e radicarlo ancora di più sul territorio del comune di Prato. Abbiamo diciamo l'idea progettuale di fondo è quella di dire leghiamo la fruizione museale all'apprendimento della lingua e cultura italiana e questo è stato un po' diciamo così il punto di contatto tra l'Università Persegneri di Siena e il museo del tessuto di Prato. E qui abbiamo pensato rendiamo il museo del tessuto come un libro di testo in lingua italiana e cultura italiana diciamo così vivente, materiale per far consentire a queste persone da una parte di fruire di un importante museo locale, regionale e anche nazionale e dall'altra di migliorare le proprie competenze in lingua italiana. Come abbiamo appena sentito diciamo il museo e l'esperienza che abbiamo ideato è replicabile, questo voleva essere anche uno degli obiettivi cioè sperimentare un modello, sperimentare un modello che fosse poi replicabile con i dovuti accorgimenti, i cambiamenti di contenuto, ma la struttura che abbiamo ideato potrebbe essere replicabile anche per altre esigenze museali, realtà museali di altri territori. E avete visto la parola social learning non è messa a caso perché il progetto si fonda su contenuti digitali e poi vedremo velocemente che cosa. Allora abbiamo allestito un ambiente virtuale per l'apprendimento della lingua italiana attraverso i contenuti esposti nel museo, quindi voi vi dovete immaginare un abituale libro di testo, manuale didattico per insegnare italiano, solo che anziché fatto di fotografie, immagini alla posta, alla banca, ci siamo immaginati il museo come il luogo dove poter sviluppare competenza linguistica. Questo è il link, elil.it, tessuti sociali. L'ambiente è altra questione molto importante per noi e oltre a un'organizzazione tecnologicamente molto semplice, molto friendly, come dicono quelli che si occupano di tecnologie, ma basata su tecnologie open source, cioè prive di diritto d'autore e quindi a maggior ragione replicabili, utilizzabili anche in altri ambienti. C'era un'attività, c'era un ambiente digitale, quindi un ambiente da remoto, come quello che stiamo sfruttando oggi, ma anche dentro il museo sono state realizzate delle attività interattive. Ecco, ricordo, dato che poi ha avuto una forte incidenza sulla realizzazione del progetto, che eravamo in piena pandemia, immagino tutti quelli che sono qui oggi hanno dovuto ideare un progetto in un momento diciamo normale, tra virgolette, e poi l'hanno dovuto realizzare e mettere in pratica in un momento di lockdown duro e quindi questo ha la crisi pandemica, diciamo. Noi abbiamo adottato il termine crisi nell'accezione della lingua cinese, forse chissà che in cinese il termine crisi è anche opportunità. Ecco, quindi indubbiamente abbiamo dovuto rifare Mente Locale sul progetto, perché tante delle attività che avevamo ideato non potevano essere sfruttate, realizzate, semplicemente perché la gente non poteva andare al museo, però ci siamo immaginati delle soluzioni alternative. E quindi una di queste che vi segnaliamo è la possibilità attraverso dei QR code sparsi nei luoghi del museo, il QR code consente di non avvicinarsi, di non toccare, se vi ricordate tutti che era l'incubo di quegli anni, di quell'anno, e quindi abbiamo disseminato l'ambiente museale di questi QR code e inquadrandoli con i propri cellulari si veniva rimandati a degli spazi dove si miglioravano le competenze linguistiche, ad esempio tessuto o pannello, che uno straniero immigrato poteva non conoscere il significato, perché non sono termini abituali della lingua italiana, con questo QR code veniva rimandato nel nostro ambiente didattico dove venivano spiegati con delle immagini e con una spiegazione in lingua italiana il significato di questi termini. I contenuti del progetto sono pensati, ripeto, per un pubblico adulto, migrante, fondamentalmente dopo previ analisi delle esigenze del territorio, abbiamo individuato in cinesi, ovviamente a Prato, albanesi, marocchini, pakistani, che sono le quattro comunità che insistono maggiormente sul territorio di Prato. Queste sono alcune immagini del progetto, come vedete le mascherine ci ricordano il periodo in cui è stato realizzato, e grande contributo, lo abbiamo avuto anche da un accordo che abbiamo fatto in Fieri con la scuola, con una scuola, un complesso scolastico di Prato, che ci ha consentito, proprio perché non si riusciva, in quel periodo ricordo appunto della crisi pandemica, non si riusciva a attrarre le persone al museo perché appunto impossibilitate a muoversi di casa, allora abbiamo scelto, è uno di quei cambiamenti in corso d'opera che abbiamo attuato, di andare noi incontro alla possibile utenza, e qui siamo entrati in contatto con un plesso scolastico, che devo dire si è reso super disponibile con noi, che ha realizzato quindi delle attività portando nel museo, con le dovute accortezze sanitarie del periodo, come vedete qui le mascherine, portandoci non solo gli studenti, ma anche i genitori degli studenti, e quindi abbiamo a questo modo cercato di ovviare alle restrizioni che c'erano in voga all'epoca. Vi ringraziamo e siamo qui, non so se è prevista qualche botta e risposta, poi ci scusiamo sin d'ora se poi dobbiamo lasciare la vostra interessantissima riunione. Grazie a tutti.